Come una lente concentra i raggi del sole e del fuoco, così la spagna di tutte le speranze e gli odori del mondo si accese e di quel fuoco oggi crepita il mondo. Come una lente concentra i raggi del sole e del fuoco oggi crepita il mondo. Come una lente concentra i raggi del sole e del fuoco oggi crepita il mondo. Chi è partito però probabilmente non sarebbe d'accordo con queste parole ed oggi parleremo appunto con un ragazzo che ha lasciato l'Italia per andare a combattere nel nord della Siria, nel Kurdistan siriano e combattere contro l'Isis. Chi parte lo fa infatti perché crede che valga la pena imbarcarsi in quella lotta, crede che quella guerra riguardi anche lui e tutti noi. Così successe nella guerra di Spagna lo scorso secolo, così succede oggi in Siria e successo in questi ultimi anni anche in Ucraina. E se l'orrore del conflitto rimane intatto e a noi spetta denunciarlo quotidianamente, spesso il ruolo di trovare nella guerra una ragione morale che la giustifichi invece va proprio a questi ragazzi che partono. E ne parliamo nella nostra pagina da profilo. Rimaniamo più o meno in tema. In guerra per gli altri, così abbiamo titolato, ma sarà veramente così? Siamo in guerra per gli altri? In realtà nella storia sono moltissimi coloro che sono andati in guerre non sotto casa, ma più lontane. A combattere per cosa? Molto spesso per un ideale. Vediamo il servizio di Tiziana Prezzo. Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena lottare, scriveva Ernest Hemingway nel celebre libro Per chi suona la campana, trasposizione letteraria dell'esperienza effettivamente vissuta durante la guerra civile spagnola come corrispondente tra le fila dell'esercito popolare repubblicano. Sorte simile scelse per sé anche un altro celebre scrittore, George Orwell, che in Spagna non tenne in mano solo una penna, ma anche uno dei tanti fucili sgangherati, in dotazione agli antifranchisti, così ben descritti in omaggio alla Catalogna. Ben prima di loro, in piena epoca romantica, stanco di una vita tranquilla e forse della sua ultima amante, la contessa Teresa Guiccioli, aveva operato la stessa scelta Lord Byron, unendosi nel 1823 ai partigiani greci sollevatesi contro l'impero ottomano. Suggestioni romantiche e letterarie a parte, è successo nei secoli passati e succede anche ai giorni nostri che le persone si armino e partano perché decise a sposare, non sempre per idealismo, la causa di un popolo che non è il loro. Di un popolo o di una nazione, se si pensa ad esempio alla legione straniera francese, fondata da re Luigi Filippo di Francia il 10 marzo 1831, a supporto della sua guerra in Algeria, incorporando tutti gli stranieri che avessero voluto firmare volontariamente un ingaggio. Anche le cronache di questi anni ci parlano di volontari, partiti anche dal nostro paese, disposti a morire per difendere, imbracciando un fucile, il diritto del popolo kurdo alla sua esistenza, in Siria, come in Iraq, e in Turchia, inseguendo l'utopia di un grande Kurdistan. Animati da una visione politica del mondo sicuramente molto diversa, sono i volontari, barra mercenari, e di nuovo è accertata la presenza di italiani, che da tempo combattono nella regione del Donbass, in Ucraina, a fianco dei filorussi, o a favore del governo di Kiev. E chissà, se anche per questi vale quanto diceva Erodoto, non esiste uomo folle al punto da preferire la guerra alla pace. Chizana Prezzo, Sky TG24. Allora, lo vedete accanto a me, questo ragazzo, Davide Grasso, benvenuto. Un giorno è partito dall'Italia e senza aver mai imbracciato un fucile, penso, mai neanche pensato, di fare una guerra, alla fine si è trovato a combattere nel nord della Siria con i miliziani turchi dell'EPG. Innanzitutto, Grasso, lei è d'accordo con il fatto che queste sono guerre di altri che persone come lei prendono e vanno a combattere, oppure in realtà sono guerre anche nostre? Io credo che sicuramente siano guerre anche nostre, se non altro per il fatto che in Medio Oriente le condizioni che si vivono e le guerre che sono avvenute sono comunque state causate dai nostri governi o dagli alleati dei nostri governi, quindi le condizioni che si vivono là sono comunque responsabilità anche dei governi occidentali. Quindi è difficile tirarsi fuori a livello di responsabilità rispetto a quello che succede. Anche in Siria i nostri governi hanno supportato per anni purtroppo delle milizie islamiste, oscurantiste, a livello politico, a volte anche a livello economico e militare e quindi le conseguenze che vediamo oggi sono anche nostra responsabilità. Però lei può capire bene che questa analisi la fanno milioni di persone che potrebbero essere appunto d'accordo con lei, ma di qui a sentire l'impulso personale di lasciare la propria vita e andare a rischiarla tra le milizie kurde c'è un qualcosa di più. Vuole cercare in qualche modo di farlo capire? Sì, io posso dire che non sono partito, come dire, per una guerra qualsiasi. Io sono partito anzitutto per una rivoluzione che è la rivoluzione della Siria del Nord, che è l'unica rivoluzione democratica, femminista, egalitaria che esiste in Siria e che si oppone invece appunto all'involuzione che in Siria vogliono portare le milizie islamiste, compreso l'ISIS e quindi la rivoluzione che io sono andato a supportare è diversa da tutti gli altri eventi che ci sono in Medio Oriente, mi coinvolge a livello umano e politico perché io credo che senza un miglioramento delle condizioni sociali anche in Medio Oriente sia impossibile conservare una convivenza nel mondo attuale, per esempio tra noi europei e i ragazzi mediorientali. Anche molti eventi luttuosi che sono avvenuti in questi anni hanno comunque loro radici in parte in questi fenomeni e quindi mettersi in prima persona significa cercare di fare quello che si può per migliorare le proprie condizioni assieme a quelle degli altri perché poi comunque le riforme sociali che sta facendo la rivoluzione della Siria del Nord in Rojava, se venissero fatte anche da noi sicuramente sarebbe un beneficio per esempio per gli italiani o per gli europei. Di fatto, lei quanti mesi è stato e che tipo di esperienza poi ha riportato in Italia? Questa rivoluzione di cui lei parla in qualche modo è riuscita? Sta riuscendo? Sì, allora io sono stato sette mesi la prima volta nel 2016, poi sono tornato come civile nel 2017 per un paio di mesi quest'autunno. Devo dire che questa rivoluzione sta succedendo sul piano sociale. Rivoluzione confederale tra l'altro che non va ridotta, è una rivoluzione curda perché in realtà almeno la metà dei combattenti oggi sono arabi, ci sono anche combattenti assiri, cristiani e la popolazione di quella regione in realtà è molto diversificata. Ci sono oltre 4.000 comuni che sono organismi di autogoverno dei quartieri delle città, dei villaggi che permettono alla popolazione di prendere in mano la propria vita quotidiana dopo decenni di dittatura, ci sono le case delle donne che proteggono le donne dalle molestie, dalle violenze in famiglia, dalla segregazione, dal matrimonio obbligati e quant'altro. Ci sono delle cooperative dove chi fa un lavoro fisico, usurante, viene pagato leggermente di più di chi fa un lavoro intellettuale o d'ufficio, quindi con un capovolgimento delle logiche che ci sono qui da noi. Quindi il successo a livello politico secondo me c'è lì nel nord, il problema è che adesso c'è l'attacco militare che la Turchia sta portando a questa rivoluzione, in particolare ad Afrin e sta cercando di distruggerla perché non si coffa ai criteri islamisti, reazionari oscurantisti del governo turco e di altre potenze della regione come l'Arabia Saudita per esempio. Grazie, l'ultima domanda che abbiamo 30 secondi. Noi ci stiamo chiedendo in questi giorni, in queste ultime 24 ore in particolare, cosa bisogna mostrare, cosa bisogna fare affinché il pubblico, anche italiano, si mostri più sensibile a quello che sta accadendo. Una volta che è sensibile cosa in realtà può fare? Non tutti possono prendere e partire. Secondo lei cosa bisognerebbe fare? Innanzitutto secondo me è impossibile attraverso le immagini comprendere la guerra. Questo io l'ho imparato dopo essere stato in guerra perché avevo visto immagini per anni ma mai mi sarei immaginato che cos'è vivere sul serio dall'interno queste cose. Penso che voi giornalisti potreste eliminare un grande scetticismo che c'è oggi nel pubblico che forse è anche parte di questo problema cui le accennava nel mostrare comunque i crimini di tutte le parti in causa. Per esempio in questi giorni si parla di bombardamenti chimici su Duma ed è giusto però quando il 16 di febbraio ci sono stati i bombardamenti chimici su Afrin appunto sulla rivoluzione della Siria del Nord nessuno ne ha parlato perché a commetterli era la Turchia che è un nostro alleato, alleato del governo italiano quando invece il regime siriano. Dei bombardamenti di Erdogan abbiamo parlato a lungo e continueremo a farlo anche perché ricordiamo che bombarda chi avevamo salutato come grande liberatore di Kobane, di Mambish e di tutto il nord della Siria solamente un anno fa. Grazie mille a Davide Grasso, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, torneremo a parlare ovviamente di questi argomenti adesso linea al telegiornale. Noi ci rivediamo domani sera.